Cari amici di Radio Nofantino, ben ritrovati al vostro Raffaio D'Ostomando. Siamo di nuovo qui in compagnia di Giovanni Blocco. Ciao Giovanni, è un piacere averti con noi. Siamo qui per la presentazione di un tuo nuovo disco. Ce ne puoi parlare a parole tue? Veramente, questo disco è stato un parto. Alla fine che avevo fatto da fare tutti le scolpi senza perdere niente, prima opera è napoletano. Spero che mi piaccia di venire il cuore dei napoletani. Senti, che differenza c'è con il tuo primo album? Questo, peraltro, è cantato completamente in napoletano e non da solo, tra l'altro. Riassumo brevemente. Questo è un disco... Ciao, vabbè, grazie. Questo è un disco con tutta pancia e anche testa. L'altro disco con tutta testa. Vabbè, che chiaro. Dico sì effettivamente. Beh, ora gli obiettivi per il futuro saranno magari inizialmente un po' di relax, poi, ecco, godersi, magari... ...disco, perché se non andrò le cose. ...durre domande. Ah! Quindi, relax e certo. Forse a fine... Senti, ti faccio l'ultima domanda e io ti ringrazio per la tua disponibilità. pezze di relax ce ne sarà davvero poco. E c'è stato, ecco, qualcosa che ti ha particolarmente impressionato nel... ...in questo tuo nuovo lavoro. Questo è il tempo che mi trovi di passare. Mmm! E' tanto? E' tanto. Mi merito tutti i successi di questo nuovo. Grazie a te, ragazzi. Grazie a te, Gio. Grazie a te.